Era meraviglioso, e amava i suoi bambini, cioè erano proprio la sua vita. Per il momento non possiamo rilasciare, diciamo, delle dichiarazioni in mente. La signora una denuncia l'aveva fatta? A momento non lo stiamo verificando, ci pare di più. La signora una denuncia l'aveva fatta? Non si conosce mai una persona. Lei è da poco che stava con questa persona, non so, sarà sei, cinque, sei, sette anni. Però lei, ok che non li conosceva bene, ma lei aveva mai avuto qualche sentore che ci potesse essere una qualche connotazione violenta nel carattere? No, l'ho vista quando ero incinta, sia del primo e poi del secondo, che ho detto fermati un attimo, ne hai già tre con questa. Mi sembrava serena, tranquilla. Innamorata? Sì. Sì. Parecchio. La signora Mulas si era rivolta, almeno così pare, a un centro antiviolenza? Non per l'uomo che l'ha uccisa, si era rivolta al servizio tutela minori dieci anni fa per il padre della bimba che è viva, perché le maltrattava, tant'è che aveva poi ottenuto l'affidamento esclusivo della bambina. Per questo compagno, invece, non aveva affatto segnalazioni in comune di nessun tipo, nemmeno una richiesta di aiuto per pagare le bollette, ecco, non si era mai rivolta ai servizi sociali. Le donazioni verranno interamente devolute alla bambina rimasta. Il giorno del funerale, appena ci verrà comunicato, sarà l'ulto cittadino. Da qui a domenica, in attesa della comunicazione della data, abbiamo annullato tutte le iniziative pubbliche organizzate e patrocinate dal comune di Sassuolo. La bambina non è ancora affidata ai servizi sociali, ancora in mano al magistrato. In questo momento si trova, mi hanno detto, in un luogo sicuro, accompagnata da due psicologhe. Grazie a tutti.